La sera, 19 luglio 1958, il peserdote Dolindo Ruotoro parla facendo affetti a Gesù sacramentato. Sei venuto nel mio povero cuore, sono un nulla, sono senza vita interiore, viviti dall'anima mia. Sei disceso dal cielo in terra per me, mi hai redenta, mi ti doni, viviti dall'anima mia. Sono venuto a te per nutrirmi di te, tu conosci la mia debolezza, viviti dall'anima mia. Tu sei tutto per me e vieni a me con infinito amore ed io mi dono a te in un'estrema povertà di cuore, viviti dall'anima mia. Tu vieni a me nell'umiliazione, immolandoti, ed io vengo a te ancora piena di me, viviti dall'anima mia. Tu vieni a me perché io in te glorifici Dio ed io sono tanto agghiacciata, viviti dall'anima mia. O se vedessi come mi guardi, occhio di amore e di misericordia, potrei rimanere indifferente, viviti dall'anima mia. Sono in un mondo agitato da mille passioni, non trovo pace. Ho infinita pace, viviti dall'anima mia. Sei nel mio cuore, ti sento benché non parli. Ho silenzioso amore, viviti dall'anima mia. Sei nel mio cuore, luce infinita. Sei venuto a me e sono tutta tenebre, viviti dall'anima mia. Sono come arida terra che produce triboli e spine, ma tu sei in me come vita, viviti dall'anima mia. Sono tutta inaridita e non so darti un sol fiore di amore. Ho fonte e zambillante per l'eterna vita, viviti dall'anima mia. Sei infinita ricchezza ed io sono tanto povera. Ho tu che ti facesti povero per me, viviti dall'anima mia. Tu sei infinita vita nella benedizione che mi doni, nutriendomi di te, viviti dall'anima mia. Ho umiliato il mio amore, la mia natura è tanto facile a compiarsi. Donami l'umiltà, viviti dall'anima mia. Mi attacco alle cose della terra e non so essere generosa. Ho tu che fondesti la tua bondà creando e diffondi il tuo amore donandoti. Allarga il mio cuore nella generosità, vivifica l'anima mia. Ho infinita purezza che ti sei rivestito di umana carne per divinizzarla, smorza in me gli ardori della concupiscenza, vivifica in te l'anima mia. Ho un mantuetissimo agnello che ti lasciasti molare tacendo, smorza in me gli ardori dell'ira, vivifica l'anima mia. Cibo di vita, manna divina, che hai ogni diretto, liberami dalle ricerche disordinate del gusto, vivifica l'anima mia. Fa che io brami che tu ti doni alle anime ed arricchisca, liberami dalle vani e emulazioni, vivifica l'anima mia. Non vedi come sono fiacca nel servirti, non vedi come sono sterile nella preghiera, donami la forza e la prondezza nel servirti, togli da me ogni acidia, vivifica l'anima mia. O Maria, o regina di amore, che tanto amasti Gesù, quando era nel tuo seno, amalo per me, ora che egli è nel mio cuore. O Maria, madre di misericordia, considera la mia ineccezza e la mia povertà, dammi una cindilla del tuo amore, perché io viva amando Gesù. O Maria, vita, dolcezza e speranza nostra, ravviva questo mio cuore e fondi in me la dolcezza tua, perché io sento la dolcezza di Gesù e mi addisti nel suo cuore eucaristico. In te confido, tu sei la mia speranza, perché in te ho ogni tesoro di grazia. A te levo la mia voce in questa valle di lacrime, e sulle figlie di Eva, che Gesù ha fatto figlia tua, O mia avvocata, volgi a me i tuoi occhi misericordiosi, fa che Gesù vivente in me, mi sia di pegno dell'aterna vita, o clemente, o via, o dolce Vergine Maria. Amen. Quando riceviamo Gesù nel cuore, facciamo che l'anima nostra viva di Lui, e non rimaniamo inerti quasi come se non avessimo ricevuto nulla. L'anima ha bisogno di parlare a Gesù, piena di fiducia. Come si può ricevere la visita di una persona benefica rimanendo muti? E si può stare a mensa di una persona cara senza parlare per mostrarle l'affettuoso rispetto? Siamo troppo taciturni con Gesù il sacramentato che vive in noi, che è prigioniero di amore. Il conversare con Gesù è un segreto per accenderci di amore per Lui. Una preghiera è come una carbonella accessa che non basta per produrre un fuoco, bisogna metterle intorno altre carbonelle e soffiarci sopra. Il conversare con Gesù attrae in noi il suo compiacimento. Egli ci si dona di più, ci abbraccia e ti fa sentire la sua dolcezza. Oh, dolcissimo Gesù, io sono la tua presenza, io ti ho nel cuore, ti amo con tutto il cuore. Oh, dolcissimo Gesù, io sono la tua presenza, tu taci e io ti parlo, tu parli al mio cuore ed io tazzo, fa che il silenzio interiore dell'anima mia mi effonda tutto in te e che il silenzio generoso del tuo cuore divino mi si faccia sentire in quella dolcissima pace che fondi intorno al tuo aldare. Cuore dolcissimo Gesù, che mi hai tanto amato, fa che il mio cuore ti amo e che l'anima mia si effonda tutta in te. Dolcissima Regina del Cielo, Madre di misericordia, io sono un povero peccatore, una povera peccatrice, che è un povero nulla. Io mi getto ai tuoi piedi e ti domando perdono dei miei peccati. Quante volte ti ho offeso, Gesù mio dolcissimo, e quante volte ho diffidato di te, e quante volte mi sono lamentata di me, e quante volte sono stata poco delicata per le anime che mi hai messo d'indorno, e quante volte, oh Gesù, ho tenuto tanta poca carità, e quante volte, oh Gesù, mi sono ripiccata, e quante volte Gesù non ha avuto la dolcezza, la sua vita del tuo cuore divino, aprimi le braccia della tua misericordia, rinnova l'anima mia, fammi santa Gesù, fammi santa Gesù, fammi santa Gesù, e poi che io rinneghi il mio carattere, che io rinneghi la mia belleità, che io rinneghi i miei risentimenti, che io vivo solo per te e solo di te. Se sei in me Gesù, come posso vivere di me? E se sei in me per farmi vivere di te, come posso vivere io dei miei capricci, dei miei pensieri, delle mie vendette, dei miei risentimenti, delle mie stoltezze, dei miei pensieri? Trasformami o Gesù, trasformami o Gesù, trasformaci o Gesù, perché tu solo puoi trasformarci, e tu solo vieni in noi per trasformarci in te. O amore infinito, o dolcezza infinita, o carità infinita, donaci questa rinnovazione interiore, perché ogni comunione nostra con te, ogni tua presenza nel nostro cuore, deve stabilire in noi una rinnovazione di vita. Noi dobbiamo vivere veramente di te, dobbiamo rinnegarsi completamente in noi, dobbiamo smettere i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini, le nostre velleità. Se non smettiamo quello che è in noi, come puoi metterci quello che è tuo oggi? E se noi non rinneghiamo quel che siamo, come vogliamo, oh Signore, che tu possa darci quello che tu sei, perché tu vieni in noi per darci la vita? O amabilissimo Gesù, o dolcissimo Gesù, rinnovaci, rinnovaci, rinnovaci. E noi tutti insieme domandiamo perdono a Gesù delle nostre miserie, dei nostri risentimenti, delle nostre velleità, in qualunque circostanza ci troviamo, dei nostri lamenti, delle nostre sfiducie, di tutto quello che passa nell'anima nostra e che non piace a Gesù. Noi tutti quanti dobbiamo dirti a Gesù questa parola, perdonaci, perdonaci, perdonaci. non possiamo affacciare nessuna velleità della nostra natura. Tu hai preso la nostra natura per mutare la nostra natura, perdonaci. Rinnovaci, ricostituisci noi te, perché noi dobbiamo essere te, perché noi dobbiamo vivere di te, perché noi dobbiamo amarti sopra tutte le cose. o dolcissimo Gesù, o amore infinito, o amore mio, fa che io viva completamente di te, così sia. Immoghiamo la Vergine Immacolata, perché la Madonna custodisca Gesù nel nostro cuore. Vergine Santissima, Immacolata Regina, quante volte tu hai fatto a Gesù la guardia quando era bimbo nella sua culla? e quante volte lo hai ammirato, Vergine Bella? E chi può dire le tenerezze del tuo cuore? O perché non ti dai una sola di queste tenerezze, in modo che noi non possiamo pensare che a te, guardare per te, amare te, Gesù delcissimo. Vergine Suavissima, che cantassi tante volte la ninna, Gesù, e cantassi l'amore, perché la tua ninna non era per addormentarlo, ma era per farti sentire nel suo cuore divino. Ebbene, che cosa dicevi tu a Gesù? Mio tesoro, mio bene, mio amore, mio tutto. O mio dolcissimo Gesù, e tu tacevi, e le lacrime scorgavano dai tuoi occhi immacolati. O Gesù, o Gesù, e tacevi ancora, per timore di svegliarlo. e lo guardai. Perché non dici? Vergine bella, per me è Gesù, o Gesù, o Gesù, o Gesù, dormi nel mio cuore, riposo nel mio cuore. È una grecchia, è piena di paglia. A se... Carissime anime, io parlo a voi, e vi confesso che mi sento come inceppato. E perché? Perché vi veggo inceppate. E tante volte mi è capitato di vedere anime consagrate a Dio, sore, frati, anime inceppate. Consagrarsi a Dio, significa avere le ali spiegate e volare in alto e in alto sui mondi della perfezione, nella semplicità dell'amore. Questa è la consagrazione a Dio. Perché costantemente, e nelle opere dei Santi Padri, e nelle sante scritture, la consagrazione a Dio è lo stesso che lo sponsorizio con lo sposo divino, con Gesù. Ora, lo sponsorizio importa, nell'anima che si dona, una donazione completa, ma non un inceppamento. Non si concepisce una sposa schiava. Non si concepisce una sposa la quale ha timore del suo sposo e guarda soltanto magari alla sua irruenza ed agisce in conseguenza della sua irruenza. Non si concepisce una sposa la quale non sia regina e padrona nella sua casa. Nell'istesso tempo che è come la ministra di quella casa e possiamo dire nella parola di Gesù stesso non sia la serva di quella casa. Consagrarsi a Dio significa sceglierlo come oggetto unico del proprio amore e per conseguenza significa scegliere la migliore porzione e possiamo dire con Gesù il quale disse di Maria ha scelto l'ottima parte che non le sarà tolto possiamo dire l'anima consagrata a Dio sceglie l'ottima parte che non le sarà tolta. Non si può negare che nelle anime consagrate a Dio c'è un decadimento né a rosare però stesso che burlarsi. Non si può negare che le case religiose tante volte diventano un poco poco non dico molto ma un poco poco per certe anime specialmente un poco casa del diavolo. qual è la vita di un'anima consagrata a Dio e dovrebbe essere una vita tutta per Dio se è consagrata a Dio è tutta per Dio è tutta per Dio la vita di un'anima consagrata a Dio ed ecco i pettegolezzi ed ecco le contraddizioni ed ecco i dispettucci ed ecco le mancanze di carità ed ecco le freddezze nella pietà ed ecco il rilassamento ed ecco le inosservanze delle regole ed ecco una vita la quale non può piacere Gesù se ne è mandato Gesù stesso non lo dico io eccola il cuore che è tanto amato agli uomini e che riceve in gratitudine dagli uomini massime dalle anime consagrate a lui più di questo non poteva dire Gesù e se lo ha detto per farlo annunciare alla Chiesa non potrete certo dire che io possa esagerare ripetendovi le stesse parole di Gesù in altre parole oh ma questo è un problema positivo noi abbiamo visto nelle rivoluzioni e vediamo tuttora case religiose devastate chiuse religiosi e religiose gettate al bando la desolazione possiamo dire l'abominazione della desolazione vediamo religiose le quali sono deportate oggi e sono le vittime e le vittime che espiano per le religiose che si lasciano deportare da Satana e non si accorgono di essere deportate da Satana perché seguono disgraziatamente e degli implussi le tentazioni le suggestioni di Satana e non se ne accorgono è una pena grande grande o perché le case religiose sono state devastate perché tanti commenti sono caserme perché tanti commenti sono stati cambiati in abitazioni di militari di persone molte volte di persone anche cattive pessime perché nei luoghi dove doveva risonare la lode di Dio non risuona altro che o la parola del mondo o la parola stolta o peggio la besemmia è una cosa che ci deve dare da pensare e la realtà è questo quando una padella non vi serve più e se è bucata voi che fate è la città degli immondizi non serve più quando una pennina si è sfondita voi che fate se chiedate a scrivere manco per sogno la strappate e la cittate via ora se il Signore è permesso che fossero state cittate via tante di queste case che dovevano essere di orazione e che oggi sono case nelle quali passa e è passata la distruzione sono case desolate noi dobbiamo dire che il Signore le ha trovate sproporzionate alla sua gloria e lo sappiamo anche dell'esperienza e perché? perché nelle case nelle quali veramente si è amato e si è adorato il Signore il Signore nonostante la rivoluzione nonostante gli sconcerti sociali non ha permesso mai che queste anime fossero state cazzate via noi non sappiamo i segreti della giustizia di Dio e i segreti della misericordia di Dio ora esaminiamo le caratteristiche di un'anima consacrata a Dio le caratteristiche diciamo così normali cioè quelle che sono di brammatica e le caratteristiche come devono essere e come devono stare innanzi alla presenza di Dio le caratteristiche brammatiche ecco un'anima è consacrata a Dio quando si veste è il primo atto della consacrazione a Dio fa la postulante o il postulante per un certo tempo e poi riveste l'abito religioso dalla vestizione passa al noviziato il noviziato è il tempo di prova ed è il tempo di addestramento a tutto quell'intole quegli usi quelle occupazioni particolari della comunità e quindi imbara come deve pregare cioè come si prega in quella comunità imbara come deve muoversi come deve agire e ci si tiene tanto e io sono stato novizio figliole miei cari e lo so per esperienza e quindi c'è una ricercatezza straordinaria in tutte le forme esterne ed è un male questo e dico un male perché ci bada più alle forme esterne che alla forma interna è la formazione interna per noi quando io ero novizio è come si porta il berretto deve essere alto fino al petto devono essere le due dito i due pollici incrociati sopra se non stanno incrociati e si manca deve farsi questo e farsi quell'altro sì e lo spirito dov'è? dal noviziato si passano i voti e si fanno i voti e l'anima si lega alla comunità o questi voti che cosa sono per l'anima dovrebbe essere la dedizione completa a Dio e noi vediamo che tante volte questi voti sono poi distrattati nella realtà ecco quello che è l'essenza l'ossatura di una comunità ci sono le regole le quali non obbligano strettamente parlando sotto pena di peccato né veniale né mortale ma teoreticamente è perché se un religioso o una religiosa ha fatto il voto di obbedienza è volontà dei superiori che si osserva la regola e quindi mancando la regola manca il voto di obbedienza è una cosa così semplice che si vede ma di per sé non c'è colpa ci sono gli usi di comunità che per certe comunità valgono più delle regole e quindi certi usi i quali alle volte fanno pena fanno bene e io vi devo dire confidenzialmente ecco per esempio in una comunità che non mi nomino per carità ma io ero giovane era ragazzo posso dire quindi è un fatto successo tanti anni fa un religioso diceva con un senso di rammarico profondo siamo arrivati al mese di febbraio e a tavolo non ci sono andati ancora i piedi di porco stiamo perdendo lo spirito della nostra vocazione il quale spirito evidentemente stava nei piedi di porco perché era l'uso di comunità che nel mese di febbraio ci stessero due piedi di porco a testa e questi due piedi di porco non si mangiava nessuno ma si dovevano dare perché era l'uso della comunità siamo giunti a questo punto siamo arrivati a febbraio e non ci sono andati i piedi di porco e si è perduto lo spirito della vocazione io lascio immaginare a voi con questa specie di mentalità come può un'anima strangiarsi a volo verso di Dio nel sacrificio nell'amore nella dedizione completa e in quello spirito di serietà che deve caratterizzare le anime consagrate a Dio ecco un fondamento di quel che deve essere un'anima consagrata a Dio è un fondamento troppo negletto la serietà perché il mondo pecca e perché le nazioni sono in sconcerto perché le famiglie sono dissolte e ci manca la pace perché le comunità sono in disordine tante volte e ci manca l'ordine e la vita e la vita sopranaturale non la vita di apparenze semplicemente diversamente sarebbe la vita degli scribi e dei farisei sapete perché? perché ci manca lo spirito di serietà ossia che sono bambini con la pettolina e ragazzi con la pettola bello chiaro tondo e rotondo perché in tutte le manifestazioni di questa vita compresi i piedi di sbarco che vi ho detto poco fa c'è una manifestazione di estrema fanciullaggine la mormorazione che è comunissima nelle comunità comunissima si può dire il pane quotidiano delle comunità il giusto è stato il figlio alle cari lo so per esperienza la mormorazione quando si faceva la regolazione nella comunità dove io sono stato studenti novizi fratelli padri si mettevano si rivedevano in gruppo e mormoravano di tutti e di tutti sempre e io ricordo che dovevo fare uno sforzo di fortezza per dire quando mi trovavo in queste conversazioni per bondà basta non mormorate e avevo sempre la peggio e mi ricordo una volta col mio direttore personalmente il quale stavo parlando ma era di un altro in mezzo a una di queste conversazioni di ricreazione io ero ragazzo tenevo 14 anni allora e mi alzai e dissi padre vi supplico per amore di Dio spezzate il discorso perché è contro la carità scattò sulla sedia tu sei un ragazzaccio e mi vuoi fare la scuola a me padre sarò un ragazzaccio ma è contro la legge di Dio vi domando perdono ma non parlate più così mi trovai in un'altra comunità imitata a pranzo una trentina di anni fa e immediatamente l'immancabile mormorazione in tavola tizi sembroni e cari era il superiore che mormorava io ero imitato mi alzai e disse padre per bondà spezzate questo discorso perché non sta vi dico che se uno mormora alle spalle vostre come voi state mormorando degli altri io mi alzo e dico lo stesso dico spezzate di non mormorando il superiore c'è la forza di tutti gli agli che stavano a Napoli logicamente ma smise ecco una delle caratteristiche della comunità per cui si imprancia la carità un'altra caratteristica è l'agghiacciamento tutto quello che si fa diventa abitudine l'abitudine è agghiacciante perché noi abbiamo bisogno come la pianta di rinmerdire sempre le anime non rinmerdiscono ingialliscono poco per volta cadono tutti i germi vitali che mette lo spirito santo nell'animo e ecco perché il noi zio diventa rilassato studente diventa povero e miserabile padre o la noi zio diventa rilassata suora e poi rilassatissima vecchia e potremmo anche dire quel che diceva una persona scozzantissima vecchia e tutto altro ha forché lo spirito di Dio perché non è più lo spirito santo che l'anima e la vivifica come dovrebbe animarla e vivificarla ma è quella forma esterna forma esterna che nelle comunità religiose tante volte si crede segreto delle opere esterne di gelo e in realtà non è segreto delle opere esterne di gelo ecco per esempio nella comunità nella quale io sono stato e io vi parlo in fiducia in un ambiente ristretto è logico che fuori di qui non lo direi questo ma voi capite che vi debbo dire la verità e che vi debbo indirizzare verso il Signore in questa comunità i padri ci tenevano moltissimo a tenere il colletto alto 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 perché così era l'uso di comunità ci tenevano moltissimo a tenere un cappellaccio grosso grosso perché così era la comunità ci tenevano moltissimo a tenere un berrettone che non finiva mai andavano per le strade e andavano tutti raccolti col mandello secondo l'uso della comunità che il mandello doveva stare sotto il braccio sinistro e non diversamente se calcava era un disastro nazionale e sapete il popolo di quella città era Lecce che cosa cacciò sopra di questi padri l'edificazione che ne ricavava sapete qual era? era questo motteggio gran collare e gran cappello senza un dito di cervello all'esterno tanti dei nell'interno farisei voci di popolo noi crediamo che l'esteriorità le pezze costituiscono l'anima religiosa è il fuoco dell'amore è il fuoco dello spirito santo è il fuoco di Dio è l'anima che ama è l'anima che geme sul peccato è l'anima che arde di zelo è l'anima che si rona è l'anima che si immola è l'anima che si sacrifica è l'anima che rende testimonianza a Gesù Cristo è l'anima che si riveste di Gesù Cristo è l'anima che vive di Gesù Cristo questo figlioli miei cari deve essere il carattere di un'anima consagrata a Dio ora io vi dico un'altra cosa fondamentale le anime consagrate a Dio hanno tanti decideri che loro appariscono come decideri soprannaturali per esempio e che ne ho trovato molte che decideravano le stimmate oh che gioia portare le piaghe di Gesù alle mani ai piedi al costato non per ostendazione no benché l'ostendazione può venire dopo ma per deciderio magari leggendo la vita di Santa Caterina e di San Francesco d'Assisi di qualche stigmatizzato per il deciderio di soffrire i dolori di Gesù e rassomigliare Gesù sulla croce è un deciderio buono e possiamo dire nel profondo dell'anima sì perché non bisogna essere mai pessimisti ma in sé stesso è un deciderio buono ecco mi sono trovato proprio stamattina esperienza pratica di fronte a un'anima la quale mi ha detto padre io prego e sto pregando il Signore che mi dia le stimmate io non saprei che rispondere perché sono credino e voi lo sapete ma mi è venuto un lampo nell'interno una luce di Gesù e Gesù mi ha fatto sentire nell'anima e ho detto a quell'anima buona un'anima buona del resto ho detto figliola e perché non domandate a Gesù che vi metta sul volto nel cuore nella vita le stimmate della sua bondà nel cuore la sua carità sulla bocca le sue parole nel volto e negli atteggiamenti della vita la sua dolcezza e la sua infinita carità ed è questa una delle caratteristiche disgraziate ve lo devo dire figlio regale con cuore sanguinante e la caratteristica disgraziata dei religiosi delle religiose dei sacerdoti innanzi al popolo è quella di avere pessime maniere e mancanza estrema di carità nel trattare il popolo non sa se tu preghi se tu fai benitenze se tu hai il cuore pieno o meno di Dio non lo vede questo ma vede solo tu come tratti gli altri ora nel noviziato la formazione delle anime è fatta tutta a furia di cangeriate cioè di parti forti e violenti io lo so per esperienza e lo so per esperienza di tanti commenti io pratico continuamente nei commenti di frati e di suori e quello che vi dico ve lo dico per esperienza si crede che per formare l'anima alla obbedienza e per formare l'anima al rinnegamento di se stessi vogliono le bacche o siete una bestia incinocciatevi non ce le capaci di niente siete una crinina quella o lo piglia come una prova e ce li dice sotto i baffi e ce li tiene i baffi o lo piglia come una parte e ce mene tutte le 40 milioni di malparole l'apprezza nel suo interno capito e allora le viene la reazione subisce e quando va in alto a Gesù sacramentato macchina come deve fare per fare reazione a questa partaccia che ha avuto e tutt'altro fa che fare un atto di virtù come potete pretendere che l'albero si metta capovolto e che si mettono le radici in alto e le foglie sotterra è un assurdo la bondà figlio legale la bondà la bondà la bondà rivestirsi di Gesù e avere le stigmate dell'amore di Gesù e della carità di Gesù la dolcezza di Gesù questo manca assolutamente manca vado nelle parrocchie e trovo sacerdoti imperrosi vado nei monasteri e trovo suore imperrosissime vado nei commenti più alti e trovo frate con 40 milioni di palmi di muso va una persona a consultarsi deve stare che so sull'avviso per chissà si mi piace con le ragioni per chissà reagisce e reagisce e le manda al paese colcinello questo non va assolutamente non va bisogna rivestirsi di questo stigma di questa stigma da meravigliosa la bondà e la dolcezza di Gesù io ho avuto un direttore molto buono santo il quale ha avuto tanta bondà e tanta pietà che ha lasciato memoria di sé se ne è scambata anche la vita e ve lo posso anche nominare ma lasciamo stare ebbene questo direttore aveva avuto una malattia nervosa ma era abituato a quegli usi della comunità usi che noi non sappiamo e non possiamo giustificare in nessuna maniera io vorrei estirpare dal cuore vostro figlio legale estirpare dal cuore dei sacerdoti questa maledetta pianta della avversione dell'ira della cattiva maniera e devo dirvi prego continuamente il Signore e mi confesso continuamente innanzi a Dio e dico continuamente al Signore quella espressione e ve la voglio quasi scolpire nell'anima che diceva uno quando vedeva un altro che si inquietava diceva un poco di marrutiello uau 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 e un marrutiello era un cane ringioso e io tante volte che vi faccio pure un marrutiello uau 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 Signore non mi fate fare un poco di marrutiello uau 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 e io vi sto parlando e quasi quasi nella voce faccio un poco di marrutiello uau 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 e perché vi devo far sentire come faccio dunque questo direttore era un tanto uomo senza dubbi ebbene se vi dico qualche episodio della sua vita vi posso dire che fa venire le meraviglie ecco per esempio uno vengono gli esercitanti nella casa dove io sono stato educato e allora uno di questi esercitanti i sacerdoti dice vorrei confessarmi da un tanto uomo ecco andato dal padre B il padre B siccome era mezzo cieco quando si faceva la barba e si metteva la tovaglia alla gola e poi col rasoio non rasoio di sicurezza allora non ci resisteva no e si urtava tutto quanto perché si toglie il salo quindi non voleva essere disturbato per dici grazie questo va a bussare la porta quando vero stava facendo la barba impedito disse lui da dentro con grande energia quello capì favorite è aprire la porta corre con la tovagliola alla gola il rasoio per aria ho detto impedito come aprire la porta quello sta scappando la gola all'aria di usato all'aria di usato sta morendo di paura ancora figlio di casa che cosa era questa era portato un po' domani a rudiella io vorrei proprio salparlo dal cuore un'altra volta mi trovo con lui e gli volevo bene e servo memoria di lui e quando è l'onomastico suo sto tutto unito in preghiera con lui tanto che gli volevo bene perché lo sento nel cielo erano miserie del carattere apprese nella comunità ecco va per commedi ci andiamo che vogliamo andare alla madonna dell'arco e si presenta allo sportellino lo sportellino era chiuso e c'era tanta gente l'educazione è il fondamento della pietà figlio legale il poveretto di questa educazione ne dovete ne può perché cominciate a dare pugno a destra e a sinistra per farsi largo e arrivo vicino allo sportellino due biglietti la madonna dell'arco io mi dico padre sta giusto lo sportellino e si è zitto lei e si è a suo posto grilandola tutto quanto si può dare ho detto due biglietti la madonna dell'arco ma che siete sorto che non sentite signore padre la sta giusto nello sportellino ho detto si è zitto lei fece rivoltare la casa fece rivoltare la piazza angeles passava uno episodio di questo per distruggere ogni bene in un'anima e ve ne ho detto due ve ne potrei dire tanti altri di questi episodi che sono così e diciamo così graziosi e istruttivi ecco un'altra volta per esempio cammino in mezzo alla strada e camminando poco ci vedeva io poveretto non potevo guidare dando il passo per mettere i piedi nell'asporto delle uova di una poveretta quello si mise a credare ci vedeva ci vedeva ci vedeva voi mi state rompendo lo state a posto vostro e poi si vuol dire che fosse mio voi mi avete scassato l'uovo voi mi avete scassato l'uovo non è poco pigliavano la calestra e ci hanno lasciato un capo al signore a un posto che c'è di no e beh non fa niente e passiamo oltre figlioli cari ecco figlioli i miei cari ma dico che cosa sarebbe stato la dolcezza in questo uomo io ricordo figlioli miei cari io vi ricordo questo figlioli mio che quando quel padre sorrideva per un momento era una felicità per noi altri che dipendevamo da lui una felicità come se fosse sorto il sole portatele stigmati della bontà di Gesù e dimenticatevi dei nerdi dimenticatevi delle reazioni dimenticatevi dei musilunghi dimenticatevi di quelle bovongerie interne per cui andate sempre macchinando come rispondere e rimescolate quella piccola parola che vi è stata detta senza pensare quante parole avete detto al signore e quanti dispiacere avete fatto al signore abbiate il cuore largo nella carità la stigmata di Gesù sul vostro volto e sia stigmati di bontà di bontà di bontà io vengo vengo con l'esperienza perché prego continuamente il signore che mi dia questa bontà che sarebbe incontraste con il mio carattere perché non si può dire ecco io sono il vostro io sono il vostro di famiglia a casa mia sapete come ci chiamano a casa nostra tutto è micceriello micceriello sapete che sono sono i miei amici dice questo è micceriello appena si muove e sprizza e sprizza sprizza bambe e pure sono micceriello e mai intanto ho posto testare in altri signori che molto raramente e mi capita di sprizzare qualche micceriello per mia somma vergogna e se me lo sprizzo per disgrazia ma devi vedere il confessore immediatamente mi vado a confessare per rivigliare l'abitudine e l'abito santo della dolcezza della dolcezza della dolcezza un altro carattere della religione dell'anima consacrata a Dio sapete qual è? è la semplicità l'umiltà e l'abbandono nelle mani di Dio noi manchiamo di semplicità ci complichiamo ci complichiamo nella vita fisica ci complichiamo nella vita morale manchiamo di umiltà non risultiamo in noi in questo vuoto del nostro nulla la grazia di Dio e sappiamo che dove non c'è il vuoto non si risuccia il liquido che deve dare magari salute al corpo come puoi fare una siringa se tu non formi prima il vuoto e aspiri la medicina nel vuoto e così la medicina salutare di Dio si aspira nel vuoto del tuo nulla l'umiltà il credersi nulla è una grande grazia di Dio e credendosi nulla si fa appello alla grandezza alla bontà alla carità di Dio signore pensaci tu io sono un povero nulla noi fondiamo tutto sulle nostre forze noi crediamo molto alla nostra organizzazione in questi tempi maledetti di naturalismo noi abbiamo dimenticato completamente che la nostra efficienza ci viene dalla grazia dalla misericordia e dalla grandezza di Dio che bisogna richiamare in noi con tutta la profondità della nostra preghiera nell'allientamento di noi stessi e allora figlioli mie veniamo a una conclusione pratica che cosa volete far voi per Gesù parlo a voi figlioli cari volete essere veramente consagrati a Gesù e si certo per questo vivete ma e come volete essere consagrati a Gesù l'ha detto Gesù in tre parole chi vuol venire presso di me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua rinnegarsi ma rinnegarsi nell'amore e per l'amore non già rinnegarsi con la cabeza al collo quale uccellino vi sembra a voi più fedele al padrone chissà nella gabbia e saltella dal fondo della gabbia sulla piccola assicella e dall'assicella sul fondo della gabbia o l'uccellino che sta nella stanza e che appena il padrone fa sing 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 e gli corre sulla spalla e gli va in testa e canta sulla spalla del padrone io credo che sia più bello quest'uccellino fedele e l'anima ha bisogno di questa espansione di libertà in Dio e per quanto si chiuda nella gabbia diciamo così e si chiuda con i suoi voti con le sue regole e le impure della sua comunità deve tenere l'anima aperta a Dio e quest'anima aperta a Dio lo ha soltanto nella semplicità nell'abbandono nelle mani di Dio prendere la propria croce perché? perché la vita di comunità è sacrificio è la vita di consagrazione a Dio è il rinagamento di se stessi rinagamento della propria volontà non dare soddisfazione al proprio miserabile corpo rinagare il gusto e condendarsi di tutto questo è sacrificio supremo di nanti a Dio è la disciplina delle discipline rinagare il proprio giudizio e assentire agli altri per quanto è possibile e quando non puoi assentire ebbene togli la discussione tanto perdi il tempo nessuno cede il suo giudizio lascelo correre come corre eccetto che non abbia una responsabilità di superiorità per poter imporre il tuo giudizio ma il tuo giudizio imponirò sempre con la tranquillità con la dolcezza e con la pace rinagare se stessi prendere la propria croce seguire Gesù come? ma come? abbiamo Gesù vivo e vero e ci troviamo smarriti nella via? abbiamo Gesù maestro nostro divino e ci troviamo ignoranti nella via? abbiamo Gesù carità infinita che ci abbraccia e ci sentiremo smarriti nella via? figlio legare ecco l'essenza della vostra consagrazione a Dio donarvi a Dio per la gloria di Dio con un ardentissimo zelo che è il rinagamento completo di voi stessi perché Gesù non ha preso la croce per portare solo la croce ma per salvare l'umanità e voi non potete prendere la croce semplicemente per portare la croce ma per salvare le anime il vostro apostolato la conversione delle anime lo zelo la diffusione delle opere di Dio senza stupide gelosie senza intrancia alle opere di Dio senza naturalismo che rende vane le opere di Dio e le attività senza persecuzioni al bene che sono così facili averle dalle anime consagrate a Dio dalle anime religiose dai sacerdoti dai religiosi queste persecuzioni maledette contro il bene allargate il cuore Dio solo sopra tutte le cose e questo deve essere per voi il programma della vostra vita e per voi figliore cari che siete consagrati a Dio e che state nel mondo e che Gesù vuole nel mondo perché Gesù non mi vuole strette ma mi vuole come quegli uccellini liberi i quali volano e stanno sempre pronti ad andare verso del padrone a cinguettargli l'amore ebbene voi dovete essere tutte di Dio fuori e in contrasto dello spirito del mondo forti nella fede ma forti nella fede perché dovete voi diffondere la luce di Dio forti soprattutto nella carità nella bondà nella dolcezza e non parlo di carità di calzone giocchette giacchette e cascavalla anzoletto cari io parlo di quella carità che spande negli altri la carità del Signore la bondà la bondà la dolcezza la vita voi dovete attendere a dare la vita dello spirito se Gesù ha detto non mi preoccupate delle cose temporali cercate il regno di Dio il resto vi sarà dato per sopra più noi dobbiamo cercare nelle anime il regno di Dio il resto dobbiamo avere fiducia che Dio lo dà loro per sopra più possiamo fare la carità dobbiamo fare la carità dobbiamo espanderci nella carità ma dobbiamo tenere presente soprattutto la carità soprannaturale dare le anime Gesù la bondà di Gesù la dolcezza di Gesù la redenzione di Gesù l'amore di Gesù per Maria per Maria e se volete essere veramente anime consagrate a Dio consagratevi a Maria Maria vi porterà nelle braccia Maria vi porterà nel cuore Maria vi insegnerà le vie della dolcezza Maria che ha taggiunto sempre e che ha aspirato dolcezza dovunque è apparsa è apparsa nella bellezza della sua immacolata dolcezza e carità Signore dateci questa grande vita e sottraete anche a me tutti gli impedi naturali del mio carattere a ciò che io posso avere forza soltanto per parlare di voi per difendere voi per difondere il vostro regno ma difonderlo nella forza della fede e nella carità della bondà e Dio vi benedica e vi faccia sante